Benvenuti all'edizione serale di Calabria News 24 in forma. Sciolti alcuni noti importanti del sistema delle infrastrutture, il Consiglio regionale ha infatti adottato la proposta definitiva del Piano regionale dei trasporti. Sentiamo Fabrizia Arcuri. Uno dei punti centrali su cui la neoamministrazione di Gennaro Ricursi ha da subito posto l'accento sulla realizzazione delle infrastrutture necessarie per il rilancio di una delle città che ha da sempre rappresentato il nucleo centrale del turismo, ma non solo dell'Alto Tirreno Cosentino. La più importante e senza dubbio è la realizzazione dell'ormai storica aviosuperficie di Scalea, che è stata inserita nel Piano dei Trasporti Regionali come mini-reoporto, dopo un iter tottuoso e non di facile risoluzione. Una giornata veramente importantissima per Scalea. Si incomincia a intravedere veramente una luce che forse era anche inaspettata, perché i presupposti, lo dico con grande amarezza, forse per quelle che è successo anche indorno alla via superficie, interrogazione parlamentare e quant'altro, non lasciavano sperare niente di buono. Invece no, è arrivata una risposta forte da parte della Regione e io sono veramente felice come sindaco di questa città, dove è ubicata questa grande infrastruttura, che sicuramente sarà di grande aiuto allo sviluppo di tutto il territorio. Infrastruttura che ha colto anche i favori delle Regioni di Mitrofe, come la Basilicata, che sotto incitamento del primo cittadino, avevano indirizzato una missiva all'intero Consiglio regionale, dove esprimevano le loro preoccupazioni. E questo appello, unito anche ai comuni che hanno partecipato alla realizzazione di quest'opera, che sono i comuni del patto, abbiamo iscritto al Presidente della Giunta regionale, abbiamo iscritto a tutti i consiglieri regionali, invocando appunto di darci una risposta, ma vuoi anche perché noi dobbiamo ringraziare anche l'imprenditore che oggi si sta adoperando in quella struttura e che ci sta mettendo tanto di suo. E allora, voglio dire, questa risposta è importante. È importante e da qui bisogna partire. Ringraziamenti, ma anche un appello per la realizzazione fattiva dell'opera. Poi voglio lanciare anche un altro appello ai consigli regionali, al Presidente della Giunta regionale, di stare vicino a questa struttura e di dimostrarci con i fatti che quello che è accaduto l'altro giorno, cioè con l'inserimento nel piano dei trasporti, non diventi un vatto isolato, ma che diventi veramente propulsivo per un'azione veramente energica per far sì che finalmente l'aviosuperficie di Scalea diventi un aeroporto. E ora ascoltiamo le dichiarazioni del Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, sugli interventi in materia di dissesto idrogeologico. Paolo Tarelico. L'incontro svoltosi all'Unical sui problemi idrogeologici e sismici del territorio è stato anche un confronto fra gli ordini professionali, gli esperti del settore e il mondo politico. Non è mancato tal proposito il contributo del Governatore della Calabria, Mario Oliverio, sui problemi di una Regione che presenta notevoli criticità. Abbiamo quindi posto nella programmazione regionale come centrale questa questione e abbiamo avviato un processo. Nel patto che abbiamo sottoscritto con il Presidente del Consiglio, con Matteo Renzi, abbiamo messo risorse consistenti, oltre 400 milioni di euro per la sistemazione idrogeologica. Abbiamo sbloccato risorse che erano immobilizzate dal 2010. Nel corso di questi due anni abbiamo avviato un processo di cantierazione di lavori, di gare che erano ferme, di progettazione di lavori. È un lavoro complesso che è gigantesco, che richiede una sinergia anche degli strumenti. Stiamo lavorando anche perché Calabria Verde, guidata dal generale Marigio, possa essere ricondotta alla sua funzione precipica, che è quella della difesa del suolo, attraverso un adeguamento strutturale di questa azienda. Abbiamo definito una unità operativa alla Presidenza della Giunta regionale per il coordinamento degli interventi, perché i diversi strumenti di intervento possano lavorare in modo coordinato per realizzare obiettivi importanti, perché sono diversi gli enti che operano in questo settore, da Calabria Verde ai consorsi di bonifica, agli stessi comuni. Quindi si tratta di avere una strategia unitaria. E in questo senso stiamo facendo un percorso importante. Sviluppo del turismo dei territori della Calabria è stato il tema al centro di un importante forum che si è tenuto ad Orsomarso in provincia di Cosenza. Diversi punti di cui si è discusso all'interno del forum. Un tavolo ricco e diversificato, dove i protagonisti principali sono stati i territori, con le loro eccellenze e peculiarità, che si esprivono attraverso la voce dei sindaci. Orsomarso, Papasidero, Bonvicino e poi Santa Maria del Cedro, Scalea. Questi alcuni dei paesi che fanno parte della riviera dei Cedri, Alto Tirreno-Cosentino. Per la Regione Calabria a presiedere l'Onorevole Giuseppe Aieta, che ha evidenziato come sia di fondamentale importanza per il rilancio del turismo una programmazione, una progettazione seria e mirata, fuori da stereotipi e soprattutto da campanilismi di sorta, e che si concretizza anche attraverso la realizzazione di opere strutturali importanti. Noi abbiamo di fronte la necessità di focalizzare pochi obiettivi sul Tirreno-Cosentino, di farli diventare patrimonio di tutti, perché è finita quella programmazione devastante che ha privilegiato egoismi territoriali. Oggi noi abbiamo di fronte la possibilità di assumere come patrimonio di tutti e di ciascuno programmi chiari, definiti, certi, che facciano bene a questo territorio. Soprattutto lavorare in rete, un brand Calabria, ma un brand Riviera dei Cedri, che potrebbe essere sicuramente un volano per questa regione, attuato anche da quelle che sono le nuove disposizioni nel piano regionale, ad esempio dove è stato inserito dei contesti strutturali importantissimi. Sì, noi tra l'altro nell'ultima seduta del Consiglio regionale, discutendo il piano regionale dei trasporti, che ha una visione alla base, che forse in questi anni è mancata, non solo abbiamo inserito l'aviosuperficie di Scalea, per volontà del Governatore e dell'Assessore Russo, ma abbiamo anche pronto un piano per i porti turistici, a fronte di una carenza di posti barca in Calabria. Pensi che se noi raddoppiassimo oggi i posti barca nella regione Calabria, saremmo comunque ultimi, per cui abbiamo la necessità di vincere le gelosie e se un porto nasce a nord di Cetraro, a sud di Cetraro, questo farà bene non solo al più grande porto turistico da Serena a Reggio Calabria, che è il porto turistico di Cetraro, ma farà bene a questo territorio. Alla Camera di Commercio di Cosenza si è discusso del rating di legalità. Quale strumento è necessario alle imprese? Il rating di legalità è uno strumento utile alle imprese per restabilirne il valore etico attraverso delle procedure. Se ne è discusso presso la Camera di Commercio di Cosenza in un convegno con le conclusioni del Consigliere di Stato, il dottor Giulio Veltri. Ma oggi noi stiamo per completare l'anno sulla informazione e sulla legalità, ma con dei fatti. Il rating della legalità è qualcosa che in realtà l'ANAC e l'anticorruzione possono rilasciare. Qual è il problema? Non si conoscono, le imprese non conoscono questi sistemi. In realtà è un pollino, come un pollino blu di un'impresa che rispetta le regole, è un'impresa sana, che non ha problemi. E questo gli può avere accesso al credito, ma anche può, nei bandi, quando parteggia nei bandi pubblici, avere un punteggio superiore. Quell'impresa che si vuole distinguere, in realtà, facendo questa pratica a costo zero, poi sentiremo oltre 2 milioni di fatturati, quindi è rivolta a tutta la piccola e media impresa, oltre alla grossa impresa del commercio, degli artigiani, dell'agricoltura e dell'industria. E quindi noi, con dei fatti, cerchiamo di accorciare quella distanza tra Milano e Cosenza, anche su questo, in quanto i numeri non sono numeri. Il rating di legalità è una misura predisposta e gestita dall'antitrust, in partnership con l'ANAC, ed è tesa a assegnare alle imprese una certificazione in ordine al rispetto della legalità. Sono previste una serie di condizioni minimali per l'accesso a questa certificazione e poi all'interno, al di là di queste certificazioni minimali, chi dimostra il rispetto di condizioni ulteriori ottiene un rating che va da 1 a 3 stellette, in realtà ottiene una sorta di bolino blu del rispetto della legalità. E questo dà una serie di vantaggi sia in ordine all'accesso al credito, sia in ordine all'acquisizione di finanziamenti pubblici e da ultimo bisogna dire che è stato previsto un particolare vantaggio anche in serie di appalti pubblici. Quindi in realtà si dà un premio alle imprese oneste, alle imprese sane. Questo importante riconoscimento viene assegnato nel nostro Paese a tutte le aziende che hanno dei requisiti, alcuni dei quali sono un fatturato minimo di 2 milioni di euro nell'anno precedente alla richiesta, devono essere iscritte al registro delle imprese da almeno due anni ed il rinnovo avviene tramite richiesta. Ovviamente non avere precedenti penari di un certo tipo, non avere pendenze giudiziarie, inutile che sto a dire quali, ma insomma è chiaro che il minimo deve essere quello di non avere precedenti penari. Occorre altresì dimostrare il rispetto della leggezione fiscale, quindi non avere pagamenti arretrati e certamenti in corso, occorre rispettare le norme di sicurezza del luogo di lavoro, occorre effettuare i pagamenti con moneta elettronica sopra il limite previsto dalla legge e così via. Ospite della quarta edizione dello Strati Festival di Pizzo Calabro, l'artista Antonio Lagamba. Sentiamo Patrizia Venturino. I gatti, per attirare lo sguardo distratto del turista o del passante che non sempre osserva quello che guarda. I gatti, quale simbolo di una cittadina fatta di scorci mozzafiato e di viuzze cariche di storia. I gatti, sopra i muri e le ringhiere, quasi a miagolare, seguimi. I gatti sono i protagonisti di un'installazione realizzata dall'artista Antonio Lagamba in occasione dello Strati Festival, la kermesse di street art promossa dall'associazione Radici in collaborazione con il comune di Pizzo Calabro, è arrivata alla sua quarta edizione. Io amo Pizzo e quindi quando ho visto questi gatti ho detto va bene, facciamoli giocare e la cosa bella è che veramente sono stati accettati perché hanno capito il senso dell'opera. Poi il centro storico si presta, poi volutamente li ho sviluppati in modo tale che si vedano in controluce per cui quasi non te ne accorgi. E quando te ne accorgi quasi confondi se non sai se è un gatto vero o un gatto invece inferto, insomma. L'arte per strada. Una volta esistevano i classici monumenti equestri ai centri delle piazze. Adesso invece c'è una nuova tendenza, quindi di portare sculture, pitture, affreschi, nei luoghi simbolo di ogni città. Non è successo solo a Pizzo, ma succede anche a Cosenza, succede in giro per il mondo. L'artista come vive questa nuova moda? Definiamola così. Non è una moda, in effetti è una questione di sostanza. Cioè noi abbiamo tutte le periferie, no? E anche luoghi, veramente degradati al massimo. L'artista fa quello che fa una vecchietta mettendo dei fiori in un balcone. Dona bellezza, dona un pensiero in un ambiente degradato e lo aiuta a renderlo più vivibile, migliore e anche sicuramente positivo. Questo lo reputo una cosa grandissima. L'arte non è solo da musei, anche da musei ci mancherebbe altro, ma l'artista odierno deve cercare con i mezzi anche di recupero, con materiali poveri, eccetera, di donare bellezza. E quindi i luoghi più degradati sono quelli che si prestano meglio ad interventi. Ad esempio a Pizzo ho inserito lì nella zona del quartiere. E per questa giornata ricca di informazioni è tutto. Io vi aspetto domani sempre qui su Canale 90 per ulteriori aggiornamenti a partire dalle 11. Grazie per essere stati con noi, io auguro a tutti una buona serata.